felice regresso figli della vecchia squadra il ritorno del ref quest'anno si torna a reppare con Enzi e Nerone tutti brava gente, brave persone faccio il freestyle, un bel freestylone iscriviti al canale, non fare lì fate conto che noi siamo appena tornati da Catania siamo appena tornati da Catania e questa è una delle ultime reaction che faremo purtroppo in compagnia perché Barlo ci dovrà assentare per un mesetto diciamo che per un mesetto avrò problemi di spostarmi dovrà rimanere a Torino ovviamente quindi cercheremo di farne il più possibile meglio però questa cazzo la facciamo in presenza abbiamo proprio tenuto di farla prete rap vecchia scuola così la gente non può dire non è piaciuto non l'ho capito è a prova di scimmia questa roba guaf no adesso dicono che è vecchio che schifo il disco peggiore a me piace quando arrivano i troll e li riconosci subito che dicono cose totalmente senza senso e dicono ah ah ho capito c'è uno che ha scritto quelli youtuber di merda che fanno finta di non fargli si piacere le cose perché deve andare di moda a non farlo c'è uno che ha scritto ma come fai a stare in hype per una roba che non è ancora uscita ma sei scemo? ma sai cosa vuol dire hype? dai ragazzi se anche voi siete un po' hype nella testa iscrivetevi al canale e un bel commento con scritto altaga hype king con verso Godzilla l'abbiamo già sentita non è cosa vediamo chi l'ha prodotta brava gente prodotta da 6pm bello 6pm ah si sono proprio loro una sorta di ah due di picche ho capito di due di picche mamma mia che muli due di picche va bene io metto gli occhiali da sole così non si vede che dormo quindi per me non so se ve lo ricordate era quella merda di roba neffa e jx brutti orribili canzoni merdose erano pop erano merda non erano pop voglio fare una realista e fatelo da solo ecco vabbè ma che ziumzium è incazzatissimo e poi vediamo chi investi in questo ramo vediamo se investi investiamo ottione manda costimone che qua non è cosa come quando sbagli le parole o sbagli la persona e la droga che qua non è cosa nel caso si fare i gif di shock ma non è cosa è un caso posso dirti una cosa? devo riassentirla devo riascoltarla mi sembra talmente tecnica che mi viene difficilissimo l'ascolto ma perchè sono ignorante io è come in king kong il pezzo di nerone che ha troppi trick e troppi input sembravo cortocircuito poi magari sono io che sono ormai abituato all'easy listen dei vari ragazzetti che è vero no perchè abbiamo scoperto che c'è la differenza tra il pop e la musica di merda e l'easy listen no? quindi c'è un pop di qualità e comunque una certa dignità è un easy listen che è quello che ci propinano da anni dicendo ma anche nel rap poi dobbiamo tornare a rappare esatto hai fatto la merda fino a prima è l'easy listen questo non è easy listen per un cazzo di niente no no però è figo l'ho sentito un po' flat la base ma penso di bestemmiare ma sai che secondo me è una questione di mix più lavorare pensavo di non è cosa ma 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 cioè pensavo più bassi in questo ritornello ho guardato le casse perchè pensavo che ci fosse qualcosa che ovattasse l'uscita delle produzioni ci siamo ovattati noi forse allora o sono ovattato io quindi sono rincoglionito però ditemi anche voi magari ascoltandole con altri dispositivi si sentono meglio qua abbiamo delle casse che sono anche abbastanza belle quindi studio eh cazzo e non lo so non lo so beh 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 è un po' strana devo forse entrare nel mood insomma sicuramente in Red Dead Redemption 2 qua air to air air to air produzione salmo anche questa vediamo air tour produzione verano e lucien verano e c'è salmo col rap Red Dead Redemption 2 hai messo il like eh coglianastro io zitto mai però parlare non è fuori fatte non ti ho visto mai smegli sbirri cari cari nazi sceggo delle fra serie da vivere ma mi hanno picchiato un paio di volte gli sbirri quindi non è vero ma tu sei mica perfetto noi si fun Estate intorno o piccolo Bullo Ritalevi Mortal Kombat Questa è la più bella Pugni di saggezza Ritalevi di Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat Per me è la cosa più bella Per me il disco vale questa barra Nel sangue la lealtà che fa famiglia E tanta bella bella Ecco Salmo Ci sono gli sbirri che non ti hanno mai picchiato E Salmo dice Non sono mai stati in galera Poi ci cita queste frasi Se ti chiama tuo fratello Salmo E ti chiede se hai ancora la partita IVA Dì di no Perché sono cazzi poi Posso dire che è il rap che mi piace Questo è il rap che mi piace Tecnico con anche delle cose dentro Che puoi dire Produzioni belle, le punchline sono fighe Si sente che, anzi Molte volte si fa anche questa di farla Parlavo l'altro giorno con Con MS Con DJ MS Mi diceva Mi è serato il cazzo di questa roba Che la gente pensa Che i freestyler non siano capaci Di fare dei pezzi veri e propri Dei singoli Questa è la prova Che un freestyler Con una tecnica come quella di Hansi Come quella di Nerone Lasciamo stare Salmo Che non è un freestyler Ok però In generale Tanti freestyler Si sono specificati nel freestyle E poi quando scrivono dei pezzi Non è il loro mestiere Loro sanno fare tutte e due le cose È un upgrade loro Da una parte questo disco Se è tutto così Da una parte è una comfort zone Dall'altra parte è bella Bella che è tornato E si Due del mainstream ti dicono Guarda che comunque il rap originario È questo Quindi ti riporta un attimo A un suono classico Anche per dire ragazzi Svegliatevi che il rap è questo Poi c'è tutto il resto dell'arcobaleno Però i colori primari Ricordati che questo esce Il giorno stesso di T-Tedua Quindi viene totalmente oscurato E siamo onesti Intellettualmente Però viene in coda Anche a il disco di Bone Shock Quindi c'è un buon ritorno E c'è un bisogno di questa roba qua E i numeri I numeri Non sono pochi Poi ho detto giustamente Perché T-Tedua Lo si aspettava da tre anni Loro sono molto proliferi Quindi proliferano E' diverso E' un pop rap Molto Sperimentale Su certe cose Io non voglio dire commerciale Però in realtà è commerciale Nel senso che Commerciale nel senso che Piace a tanta gente Può essere ascoltato da tutti Questa roba E per i pop ads Domino Nerone Speranza Si cazzo Produzione cine Sentilo Tutto l'ha detto Bella rispetto Bella rispetto Domino Che tu lo sa Bella anche questa cosa Enzi bella entrata Così Dopo Che bello Io sofferenza e talento Siamo un terzetto Bravo Bravo Mi suonano scontate Ste cose Porca La donna Le ho detto da sei anni Ma la cantante Porca La cantante Hai ragione Scusa Porca Porta la donna Chiamata anonima Puttani mamma Del vecchiero Magno Dobbbero Non è una gang Che è una cellula Crollerai Che mi accelusale Quando arrivo Prendi la pillola Con i caramba Diventù se il po' Venga Venga Molto francese Uno per tutti E' uno contro l'altro Bank Sai che non cambio la mano Seppe lapidario La speranza Uno per tutti E uno contro l'altro Poi ha avuto una metrica Molto francese Lui qua Non abbiamo più fame Dell'unice Cioè C'è Tanto Allora a me Speranza piace E il rosico Che l'abbiano abbandonato E' inutile raccontare Raga Questo è l'anno della verità L'anno della verità Ci siamo proprio brutti il cazzo Di non dire più le cose Perché poi si offende Uno si offende l'altro E quanto me ne frete il cazzo A me L'hanno mandato A fanculo Speranza Perché non ha accettato Di fare Il pagliacino Perché non ha venduto Quanto volevano che vendesse E' un prodotto Che chiaramente Underground E' un prodotto Che chiaramente Non è easy list E' un porca merda E non puoi buttarlo Nel cesto Ma tra l'altro Lui perde un sacco di roba Dall'America Tipo Anche che i Yugi Che dice Mass Afghanistan In America Dicevano Pierre che ce lo diceva Diceva Qua c'è più morti Che in Iraq Chicago Iraq Una roba del Chicago Iraq Facevano tutti quei giochi Di parole Scrivete qua sotto Se avete capito A chi mi riferisco E quindi Ha delle barre Alla francese Però degli riferimenti Americani Il tutto in casertano E' molto figo Speranza Pensavo che proprio Tutti e tre i ragazzi Che cantano Che hanno lo stesso Problema di speranza Cioè nel senso Che non sono facili D'ascolto Anche se possono Scriverti della hit Sappiamo benissimo Che Nerone scrive Per tante altre persone Però se per voi La hit deve essere Lamborghini Bocchini Panini Perché conoscete Quattro vocaboli Ragazzi perdonatemi Il rap è fatto di parole Se non conoscete parole Ascoltatevi altro E' giusto Però quello che ho paura E' che qua I concetti che vengono detti Come diceva il Bon Kento Sì siano lontani No come diceva il Bon Kento Parliamo di Di comunismo Ai comunisti Capito Qua sembra di parlare Ma infatti Secondo me Questo è un disco Per chi veramente Li piace il rap E non per chi Ascolta il rap Per moda Ok quindi È per un target Specifico e preciso Secondo me Questo è un disco Che ti ascolta Il rapper O comunque L'hip hop head Chi veramente Li piace il rap Ok ha senso E non chi Ascolta il rap Perché adesso Quest'anno va di moda il rap E questo mese Va di moda quel rapper Ha senso Ha senso È come shock È molto più commerciale Di questo libro Tagli come sorrisi Piovono cuoricini emo Vai Brava gente Don Joe Sento bisogno Di un paio di cudi O le orecchie enormi Cambiato il master È qua Prima il master Era qua E questo è qua Abbasso il volume Guerra senza fare i morti Yeah Mi piace quando piove Confondo un po' il dolore Amo l'arte perché mi commuove Dalla Ma quindi è la seconda volta Che sento citare Baschia In due canzoni differenti E la volta scorsa Non lo sapevo Che fosse un pittore Writer Morto in America Fico Canzone Qui Dove il silenzio mi parla Dice parla Nel due dall'altra dei soldi Sveglio da giorni Scrivo un'altra ballata Dei fogli Wow Solo se poi ce l'hanno avvelenata Una scelta avventata Non si chiama più avventura Perché è dura governarla Rap conscious 2000 Tu non hai idea del male Che sappiamo far Penso a che darti È come tragirli Di nostri spagli Sono sigilli Ti apri in cielo Solo quando brilli Non è diventato Uno dei king di sta roba Sai che non mi piace Questo cazzo di mood Piagnone È 2000 Però il testo è Wow Tutti e due Però credo che sia proprio Una citazione a quel mood Piagnone Sì Se non avessero fatto Così precisa Poi l'ha fatta a Don Gio Quindi sa cosa deve fare Wow Bello Niente da dire Peccato per il mood Che non è il mio preferito Ma Pezzo triste Ci sono un paio di barre Che valgono Tanto Tanto Sì Shari Shari Signorina Ma cosa fai Il blues Wow Che strago Non è un'altra L'ha Che strano È vero che entra strana cioè è incredibile, è fighissima ma è strana è cervellotica guarda che la barra mio padre sa tutto per il caso di quando mena fa brutto è una grandissima barra è la consapevolezza dello schiaffo che ti arriva in faccia è bellissima a meno che questo non sia un campione preso da un'altra canzone sua come dicevi tu, strecciato, rielaborato per il pezzo in modo che stassi bene magari gli hai esportato solo le voci del ritornello per fare questi cut alla fine molto carino allora perché barra lo faceva così? perché ci siamo confrontati con tanti ragazzi che ancora non hanno capito come funziona il tempo nelle canzoni e allora dicono a cazzo eh ma questo non va tempo smetricati qua di là smetricare, andare in controtempo, andare in contrapunto, prenderla sul 3 al posto che sul 4 è tecnica raga sono tecniche cioè riportate che non lo prendi tra un clip e l'altro a caso esatto qua il pezzo è bello, difficilissimo d'ascolto cervellotico, cervellotico, se ti piace la roba cervellotica ci sta mi ha ricordato tanto quella roba che fa anche Sandro sul 3 cose storte, sui tempi storti, io dico Sandro perché ho questo tipo di riferimento un minuto un minuto che produzione cina questa è quella commercialissima quella che ha fatto me ma fermi, no no no, il campione, no, questo è il milone ciao a tutti grazie, è bella io voglio sapere chi è sto campione questa è una roba alla venera questa è la hit questo musicalmente è incredibile questa è una hit per tutti, Lange con una nota funk no, sotto si, lo stori tornellino che non è nemmeno un pop loro che fanno la leppata per gli italiani in radio capisci che è rap, però è un rap che è compensibile a un pubblico mainstream pop e non tralasciano gli incastri perché comunque sono un sacco di incastri e non tralasciano neanche le visci donate bravo cemento con Silent Bob, bello signore bravo bravo questo mi piace stiamo al piede, questo si è finito bravo guarda che qua Nerone in questo disco ha detto di quelle cose incredibili a parte il suo incassi del cazzo che fa ogni tanto, sono fighissimi ha detto due o tre concetti che sono belli purtroppo finora Nerone ha surclassato tutti, anche Salmo, a parer mio si no 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 no, si, no guarda beh no perché non voglio che pensate che voglio ammettere di Zagna no 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 no, è una questione di vibe bravi tutti, ma qua no perché anche Enzi, guarda che anche Enzi, a livello di tecnica Enzi è tanta roba no no ma anche di concetti però devo dirti che poi sarà anche una first listen il fatto che è veramente difficile ascoltarli e capire tutti i concetti, gli incastri insieme ah beh, alla prima botta si e Nerone mi sono arrivati più diretti ma magari perché ha un tipo di scrittura meno meno intricata di Enzi non lo so, non lo so, c'è da riascoltare semplicemente che lo conosciamo e quindi abbiamo un rapporto un po' più diretto magari conosci di più umanamente la persona che riesce a comprare anzi se volete l'intervista con Nerone è venuto un paio di volte da noi quindi quelle due volte che ci si è fatta la chiacchierata magari riusciamo a sentirlo più nostro però la strada vede tutto, nascita e lutto, in piedi e in piedi strutto non resta il fare a butto oooh, che figo ma non è piaciuto eh, ma il flow, in cazzo, però è bello il pezzo, no? non è piaciuto il flow e vabbè perché ha fatto quella francesinata sai che lui è un po' francesino se è in Bob vai a far culo a fare il francesino da un'altra parte fai francesino nooo, però, però, un giorno di festa per i figli di troia quando muoio è bellissimo allora, sì, nel senso, niente da dire concettualmente figli ma chi cazzo è, ma certo mixtape 2 cioè, oh, Enzi, Nerone, Nitro, Fabri Fibra, J.Claffuri e JamieTaz vabbè, ma è una traccia perfetta guarda, se mi schippi Fibra per me sì no, ma non è vero, secondo me qua spaccati tu di vai, vai te lo dico perché con sta gente qua Fibra non fa Fibra minchia ballo qui fermatelo i roshi, raga, giro con i mostri come i roshi ma io ti amo, Enzi, questo è il pezzo della vita ragà, mi scrivete qua sotto, io so cos'è Rosbiff no, 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 chissà cos'è Rosbiff scriva questo tipo e invece a me, chi mi vuole dire minchia e vuole fare un po' di cultura scriva tutte le citazioni perché questo è un pezzo da studiare a scuola Eminem Eminem benissimo ho dovuto guardare chi fosse, se fosse Jay con Nerone no, era il Nerone, è il Nerone, però l'ha fatto Jake non fai rap, sono gossip, bei fantosi, per mi servo un diversivo, mi divertivo, tino, lei dalle cosce con la pesce, pure di mattina che schifo farci del mare, noi siamo freschi, abbiamo un sacco di buoni amici, come Zelensky, non svarano mai così? così? chiudila con terrorista nato e poi l'abbiamo dette tutte eh Jake miocchia, abbiamo un sacco di buoni amici che cazzo ridi? perché io penso che sia il primo che ha citato questa cosa nel rap italiano hai spaccato tutto, questo pezzo è una mina eh vai si, vai in playlist, vai nella nostra playlist Top Alternative Music by Arcade Boys su Spotify, c'è un sacco di roba fresca e un sacco di roba classica ma non è che vai in playlist perché hai un featuring con gli altri no no, perché il pezzo è una manata, tutte manate, tutte manate vanno un po' indietro che voglio risentirmi nella rima io abbiamo detto che è bello il pezzo, no, volevo fare i complimenti a Gemma perché ultimamente sto vedendo che sto facendo risalata assieme a Frenetic e Orange forse sono a Frenetic, io credo che Frenetic le faceva già da mo, si ma questa volta sono musicali, ah ok, ho visto della roba è proprio bello, mi piacerebbe andare a vedermelo live, ecco lui è uno di quelli che piacerebbe andare a vedere live a livello musicale non l'ho mai detta questa cosa, ma ultimamente sto guardando molto a livello artistico cosa fanno i ragazzi, secondo me sono usciti proprio da quell'idea del dover fare il rap a tutti i costi e a fare il lavoro artistico, musica bella bella, poi puoi rappare anche sulla mazzurca hai capito? certo, raga il pezzo è figo, infatti è quello che ha fatto più numeri immaginavo perché è proprio bello però spero che non l'abbia fatto solo per i feat no no perché alla fine questo è figa, è figa il pezzo, oh che fa per Fibra mi è piaciuto, Fibra è stato molto bravo ma introdetto Fibra quando deve fare la roba seria, che si diverte, ghetto blaster, le cose esatto, hansi raga qua top player, perdonatemi ma a parte jake ha fatto quella nitro, no 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 nitro che m***a vera, nitro guarda che è stato fico eh, si ma a me tutte le citazioni super cartoni animati nerd di hansi, no ah ok, tutto il resto è proprio un po' più sulla mia way, vabbè top, top, si il pezzo c'è nel senso raga andiamo avanti, very good back to basic, oh back to basic sarà una base minimale? può essere, vediamo chi l'ha fatto massimo anestro con gli scratch, solo scratch, big joe, big joe bella sta batteria la materiale e quelle on purpose dove achh di classe e f drum il clac comori bello invece quando spengo e la riaccendo so come tu, quando vinco e quando f reconstruction Mayorista mettimi 300 che l'ho detta almeno a 10 quel che e' certo è che stasera avrò un problema in più di jay sea ho gli occhiali da sole bella l'alzit produzione incredibile è quella un po' più cazzona no? ecco la buona cattiva cambia cambiato il mood mi piace sto ritornello hanno scritto il disco per noi si fammi sentire hanno scritto il disco per noi perché poi fondamentalmente eccitazione e tutto quello che viene intorno è tutta roba che ci arriva diretta qua mancano le marche ho sentito la marca giusta a citare si il caso ma giusto perché parlavi del tempo l'orologio correre ma una si non c'è questa roba anzi molto 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 interessante cuba link cuba link cos'è? un cocktail ragazzi? può essere oppure un link di puttanazze mulatte? chiedo tipo di maglia è un tipo di maglia può essere anche di plastica allora purtroppo io pensavo che fosse il nuovo episodio di zelda cuba link ho capito io pensavo fosse un sito di mulattine anche i mulattiere magari zelda in quel caso aveva però sai la classica catena è il disegno della maglia non è per forza l'oro o il diamante quindi ci sta è uno status per forza non c'entra un cazzo no 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 purtroppo bello wow wow ma proprio bello il patch è proprio bello la tirata eh ma non solo quella wow bella bella stavo pensando mentre rappava sia il ritornello più lo ascolti più ti piace all'inizio era un po' vuoto però poi in realtà molto figo ma in realtà anche il disco all'inizio ha detto micchia che si fanno i strani poi andando avanti ho accettato il suono ascolta mi sono reso conto ascoltando Ancy e Nerone che quello che hanno questi due ragazzi ormai uomini confronto a quelli che hanno i ragazzi della nuova generazione è che non hanno paura di sperimentare i flow sentivo proprio Nerone che ci perdeva la libertà di fare giocare poi tanti flow sono citazioni a flow classici di masterpiece del rap quindi è bello risentire delle cavalcate delle entrate fatte come bravo come l'aveva fatta magari già qualcuno ma si parla di citazioni chiare per chi conosce io non farò i nomi perché dovete andarvele a sentire voi quando nessuno guarda chiudiamo il disco con questa se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi noi siamo un canale indipendente ragazzi quindi il nostro supporto è importante a te non costa niente per me fa differenza quindi un like un commento con quello che secondo voi è il risultato di questo disco sulla gente e quindi andiamo avanti e chiudiamo il disco sì volevo leggere soltanto il produttore che è Henry Datemaker è molto strano confronto tutti i produttori che ci sono stati finora visto che lui è molto più su Easy Listan su Easy Listan sì anche se ha prodotto tra l'altro paradiso ancora scrivo il presente per il futuro quando il muro è pulito il popolo è mutuo quindi fanculo io me e me stesso l'ultima rima l'ultimo concerto colpo di pistola in mare aperto tutti i miei cerotti quando fianco dentro sono come acqua su castelli di sangue mi sono scordato di fare i complimenti a Henry bella produzione poteva diventare come quella Rap 2000 e invece secondo me con questi suoni un po' più nuovi molto morbida molto azzeccata 5000 like li intervistiamo 5000 like io li intervisterei questi brava gente questi good fella e allora 5000 like se riusciamo a arrivare cerchiamo di invitare Enzi e Nerone qua in live da noi e farci una chiacchierata su questo disco perché sono veramente curioso visto che Enzi l'ultima volta che è venuto da noi ci ha detto vi manca solo lo studio non è che mi puoi fare sedere in cameretta ci avevi ragione ci abbiamo messo un attimo ma perché siamo indipendenti non abbiamo i soldi quindi se avete piacere noi siamo qua direi tra un mesetto che finisco questo problema che ho nell'uscire dalle mura delle mie città perché io sono sotto assedio è questo sai che io so capito no no tanto comunque ripeto non vi preoccupate le reaction le faremo siamo riusciti a fare comunque l'ufficio l'unica roba che non può venire fino a qui esatto non è true è true è differente è vero è vero